Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Quindi non posso chingling? No No vabbè No vabbè Forse non ha funzionato benissimo la randomizzazione Ma non ne sono veramente sicuro Reggi reggi dai dai ma pure vele in puo Spargi spora Sto cominciando a odiare sto Mewtwo raga Io avrei dovuto scegliere chingling chingling Io volevo come starter chingling io volevo come starter chingling Non me l'hanno dato Nessuno ostacolerà il mio obiettivo Il pokemon io non lo indebolisco e lo riempio di pokemon finchè non ci affoga nelle pokeball Ti prego Mi va un qualsiasi pokemon ti giuro Non lui Non lui Non lui Tutti Tutti mi andavano bene Volbit Tutti Tutti andavano bene E dai dal primo all'ultimo Volbit Ma va un qualsiasi pokemon ti giuro Hello darkness my old friend Le challenge le potete fare applicabili ad un unico episodio Mi spiego meglio La challenge No mi son curato Desidera qualcosa? Non credo Io spero che il video vi sia piaciuto Cosa è caduta la pesca I pescatori molto forti che potrebbero affrontarci e farci tanto male Siamo a 18 minuti Io ci so fare con la pesca Ma con i pesci ancora di più Perché ovviamente questo pescatore diciamo che è dall'altra sponda Ecco Ovviamente niente contro quelli dell'altra sponda Perché anche perché poi mi aprono il culo se io gli do contro quelli dell'altra sponda Mannaggia voi Ah io sono andato totalmente a caso Invece si c'era una vigor banda Perfetto Cioè banda nel senso che Cioè è una banda con vigore Cioè Sì Adesso lo doppieremo con una voce molto Molto giapponese La pazia di Danza mi sono smanita Nel volco selvatico solo in paolita Questo sia più cinese Però non è importante No Schia Schia Me l'ho immaginato Oh oh che vi guarda tutto incazzato Eeeh Eeeh Non nulla Voi guardate fate Che else guardi Vuoi lì subire la tempesta oppure Ok ora Io devo ragionare Sbriccio al mano dovrebbe far di meno pescovino pf L'oggettivo è non mandarlo a vita Perché se questo sicuro è un problema No Quali sono le opportunità che tu abbia incendio stab Sono un coglione che non ho preso le pozioni Quindi dritti filati al pokemon market Oh 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 Ok Ok Ditemi che è randomizzato Ditemi che è randomizzato Dimmi che è randomizzato Vaffanculo Oh Ma che è Quindi se ci esce un po' come un figo Siamo nella merda Lo schiavo è man Padiglio no Allora devi morire Lo sapevo Io lo sapevo Ne ero convinto al 100% Puntualmente non ho nemmeno un rimedio per il sonno Giusto così Sì Per zanna sono Eredità Ma raga è gay sto pokemon Ma co Yeeeh La vita fa schifo Allora andiamo a depositarlo Mi toccherà allenare un pokemon in più Per il prossimo episodio Che bellezza Io sono un coglione Io sono un ritardato mentale Sono un coglione No 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 Che cancro Che cancro Dio che cancro Manni perché sei vivo Perché sei vivo Perché mi sono dimenticato di depositarlo ovviamente Cioè Che è un po' una contraddizione Non è Cosa Classe allenatore Dio Possibilmente Ok perfetto Cosa fa Cosa fa Cosa fa Cosa fa Sparatemi in bocca Mite arceus redentor Tu che a fior Scherzandone Se ho sognato Che un mio amico Aveva scoperto Che i cactus Avevano i vasi sanguigni Cioè ditemi poi Se uno non deve essere considerato pazzo E non deve essere mandato al manicomio Per questo è l'episodio dei leggendari Ovunque li trovo Cioè Esco di casa Vado al censo a pisciare Dalla tazza mi viene fuori Regiais Non lo so Muori Muori veloce Non l'ho letto Davvero E tu ti dovresti evolvere Fermi Come ho fatto Come ho fatto Tappatevi d'orecchie Sei morto Ambi Che bello Carta vetro di Ami Buon nemico colpisce Crowdown Non sapevo che avessi Anche le carte vetro Figlio Cioè io Non vorrei dire ma Ho concluso questo episodio Vedendo uno stunchi Che splasciava Io Sto perdendo certezze nella vita Sto perdendo tante certezze Io mi immagino uno stunchi Che fagli Gli splash a caso Ma perché Perché queste cose Porca di quella puttana Regi 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 Dai Brutto colpo Cristo Bacca carciofo No Bacca Baccaracolo Baccaracolo Panfilo C'è neanche la baccaracolo Sa di essere una baccaracolo E' talmente utile Che neanche la hai sa di avistere E la Triva E switch Sì Sì Eh sapete quanto sarebbe Stato utile qua Cinzia Stata utile Cinzia Perché obiettivamente è femmina E invece no Ovviamente mi devo beccare questo Che mi fa un male Boia Dio Cav Devo censurare Che smalti Cioè allora Io qua sapete di cosa ho paura Obiettivamente Dei porco Non devo bestemmiare Ma dei Critical Tutti con specchio velo Che è sta storia Tutti God Tutti con specchio velo Ma Cristo Ma Cristo Sparatemi in culo Cloyster Io utilizzo ancora Volo con te Scappa Perfetto Oh Ma sto volando Stava volando Fetto Possiamo andare Forza 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 Sì sì Lo so chi è Lugia Lo so chi è Lugia Che è Lugia 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 Ti prego Ti prego Ti prego Mi perseguita Possiamo Gentilmente Sbaggare Grazie Veramente Era inguardabile Sta roba Il bug Della torre campana Uno spettacolo Guarda Ma che roba Che schifo No Porco Il lemure Porco Il lemure Vedete che io Non le riesco a fare Ste cose Ecco perché volevo farle In un episodio intero Gli hai dato una mano A suo tempo Niente male Ti ringrazio Nel frattempo Minchia Rima Tempo Tempo Spettacolare Io sono in questo momento Frattempo No No raga Non ci No Che merda Allucinante Una Una merda Di dimensioni Cataclismatica Oserei dire Questo qua Se ne viene fuori Con un ter Allora Ho spaccato tutto Aspetta Se muore Lo posso Se muore Non muore Muori 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 Muo Con un ter Grazie.